Maximulta per il circolo Treassi di Chietiscalo, il locale di Via Pescara all'interno del quale si sarebbe consumata la litie che ha poi portato alla morte sul marciapiede davanti al circolo e al Mia Donner Kebab di Fausto Di Marco, musicista 39enne teatino, ammazzato con un fendente alla gola sferrato con un collo di bottiglia rotta lo scorso 9 di ottobre. Nei giorni scorsi la questora di Chieti ha notificato al titolare delle Treassi una serie di sanzioni amministrative per un totale di circa 20.000 euro. Infatti per la polizia ci sarebbero state varie violazioni della legge, il divieto di somministrazione di alcolici fino alle 4 di notte, le bevande servite anche non iscritte al circolo privato e l'ingresso del locale non a norma perché direttamente esposto su una strada pubblica. A fine ottobre il questore di Chieti, Vincenzo Feltrinelli, aveva deciso di chiudere per tre mesi il Treassi per evitare il ripetersi di atti violenti che potessero ledere l'ordine e la sicurezza pubblica. Mentre nei giorni scorsi i gestori e i proprietari del locale hanno fatto sapere che il circolo chiuderà definitivamente i battenti per l'omicidio di Fausto Di Marco dal giorno successivo al delitto in carcere Emanuele Cipressi, 24 anni, anche egli Chietino. Secondo la ricostruzione degli investigatori all'interno delle tre assi sarebbe nata una lite per una ragazza dalla cui collutazione sarebbe sfociata la tragedia. Nell'interrogatorio di garanzia Cipressi ha scelto la via del silenzio non rispondendo alle domande del GIP, anche se sarebbe stato lo stesso ragazzo qualche tempo dopo a chiedere alla procura di essere ascoltato per raccontare la sua versione dei fatti.